Vaccini, facciamo chiarezza. Nelle ultime ore si è diffusa la notizia che le manifestazioni di interesse si potranno presso effettuare attraverso una piattaforma sviluppata da poste italiane. Debutterà inizialmente anche nella nostra regione, tra quelle pilota. Ma a tutt'oggi dove bisogna fare la propria prenotazione, per così dire, l'assessore regionale Nicoletta Verì? Sì, è vero, la regione Abruzzo ha dato la propria adesione ad aderire alla piattaforma nazionale di poste insieme ad altre regioni. Tutt'ora vige invece la possibilità di potersi iscrivere, di poter esprimere la propria adesione sulla piattaforma nostra regionale. Appena i due sistemi si confronteranno, si uniformeranno, partirà la piattaforma nazionale. Oggi si possono prenotare ancora tutti coloro che fanno parte della prima fase, ossia ancora se ci sono dei sanitari, se ci sono gli over 80. E da venerdì, e anche questo lo comunicheremo, c'è la possibilità di poter dare la propria adesione dai nostri corregionali con età dai 70 ai 79 anni. Anche qui andremo a stabilire due sottogruppi, due sottosistemi per evitare che ci sia questo affollamento. E sempre in ordine cronologico partiremo prima dai 75 ai 79 e poi dai 70 ai 75. 130.000 sono gli over 70, 116 i punti di somministrazione, 7 le sedi fisse, gli ospedali di Pescara, Chieti, Vasso, Lanciano, Terra Molacuile e Sulmona. Da domani intanto è la volta dei fragili e dei rispettivi cargiver. Sì, sì, la piattaforma è sempre aperta, c'è la possibilità di prenotarsi, anzi sollecito coloro che fanno parte della fascia della prima fase a dare la propria adesione. E abbiamo già attivato questa possibilità su tutto il territorio delle strutture mobili proprio per raggiungere, purtroppo, quei tanti comuni che sono ancora non, diciamo, non sono stati raggiunti dalle unità di vaccinazione. Tutto questo anche grazie alla protezione civile. Assessore, il ruolo dei medici di famiglia? Il ruolo del medico di medicina generale è fondamentale, primo perché ha conoscenza di quelle famose fragilità, quindi solo il proprio medico ne ha conoscenza, ma anche perché ha dato la disponibilità insieme all'Adi di poter vaccinare quegli ultraottantenni o quelle persone che non sono né trasportabili e quindi che non possono raggiungere le sedi vaccinali. E prosegue l'assessore Veri, continua l'interlocuzione con i farmacisti, chi ha fatto la manifestazione di interesse ma non è stato ancora chiamato. Noi abbiamo attivato le ALS per questo in sinergia con i comuni, però devo dire, tranquillizzare che saranno chiamati tutti. Come già detto ieri, se le dosi arriveranno si conta di vaccinare la maggior parte degli abruzzesi entro settembre.